Da quando lavoro in DM innanzitutto ho imparato a verniciare, perché questo è il mio lavoro. Sono arrivato in DM che non ero capace di fare niente, cioè di questo che sto facendo attualmente e in più ho imparato a lavorare in equipe insieme agli altri. Io mi chiamo Ivan Reggi, faccio il verniciatore, attualmente faccio anche il coordinatore responsabile di reparto sabbiatura e verniciatura e lavoro in DM da 33 anni. Il mio lavoro allora, come prima ti ho anticipato, si tratta di verniciare, ma comunque di coordinare i vari reparti, cioè sabbiatura e verniciatura, per far sì che comunque io lavoro anche in collaborazione con l'officina che mi detta le commesse che sono più urgenti. Le competenze che sto usando diciamo è l'esperienza che ho acquisito in questi 33 anni, che sono partito come verniciatore e poi piano piano comunque sono cresciuto insieme all'azienda, perché una volta facevamo macchinine che a confronto di adesso sembrano dei giocattoli, piano piano chiusendo sempre più sicurezza sia nel verniciare e comunque anche nel gestire le problematiche e il lavoro stesso, diciamo che questo mi aiuta molto nel lavoro di tutti i giorni. Per quanto riguarderà le sfide di domani per lo più competitivo, diciamo che quando passeremo nei nuovi stabilimenti che stanno prontando in questo momento, probabilmente ci saranno altre sfide e poi si vedrà ecco. Il mio rapporto con i colleghi in DM lo definisco molto buono, perché sia con i ragazzi dell'officina e anche con alcuni vecchi, diciamo tra virgolette, che sono come me, che hanno tanti anni di servizio qui, è molto buono, soprattutto con i miei colleghi di reparto, che è un reparto molto piccolo, perché siamo solo in sette, però siamo molto uniti ecco, diciamo che ci si dà una mano sempre tutti, secondo me il rapporto è veramente eccezionale e io quando vengo a lavorare non mi pesa più di tanto perché io sto bene con i miei colleghi.